guardami stessa tuta di cara ferrani solo che io non sono pentita io devo sputare vereno ancora che si parla anzi che si sparla di un argomento mio delicato nelle la non sto parlando di voi sto parlando di di certe live schifose dove si permettono di parlare delle mie scelte di quello che ho fatto io su telegram e dopo l'ho messa io stessa con il mio culo l'ho messa io che non mi vergogno l'ho fatto in un momento di crisi che avevo bisogno l'ho fatto perché a differenza di altre persone non vado a chiedere soldi a nessuno non vada che piuttosto sotto i ponti piuttosto a forza di mangiare pane e carote tanto le carote possono servire se in bocca che in altre sono a posto io con le carote pane e carota ma non vado a chiedere soldi a nessuno piuttosto sacrificata sotto un ponte con pane e carote ma soldi non ne chiedo io e l'ho fatto e lo rifarei mille altre volte va bene sia da fidanzata che da single lo rifarei nessun problema non mi schifo io mi sono portato avanti da sola grazie a me stessa e grazie a hai capito ma stop chiudetevi ste bocca